Due cabinovie, rinnovamento tecnologico e ristrutturazione di impianti scioviari, revisione di una seggiovia, sono cinque gli interventi per i quali la Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato un finanziamento totale di 21.931.080 euro nell'ambito della linea di azione del PAR FSC, programma attuativo regionale del Fondo Sviluppo e Coesione. La linea è rivolta al rafforzamento e miglioramento del sistema di mobilità regionale nei centri urbani e nelle aree montane verso incentivazione di mobilità di trasporto sostenibili, filovie, funivie, combinazioni intermodali e realizzazione di infrastrutture ferroviarie metropolitane. Nel dettaglio si tratta della realizzazione nel territorio comunale di Castel di Sangro, soggetto attuatore dell'opera, di due cabinovie destinate al miglioramento del sistema di mobilità locale del bacino scistico Alto Sangro Piano a Remogna per importo finanziato di 17.131.000 euro. Fra gli altri interventi in programma anche la sostituzione della sciovia Quartarana nel comune di Campo di Giove e prevede un finanziamento di 625.000 euro. E sarà prevista inoltre la revisione generale della seggiovia di arroccamento Scanno-Cole-Rotondo nel territorio di Scanno per un importo pari a 575.000 euro. Nella delibera sarà approvato anche lo schema disciplinare dei rapporti tra la regione e soggetti attuatori in relazione anche le modalità di corrisponzione del contributo. Grazie. Grazie. Grazie.